Una stazione dell'alta velocità, di fatto una interconnessione proprio tra i binari della direttissima e il binario lento. Ci troviamo nella Valdichiana Retina, tra Olmo e Rigutino, quindi comunque ancora nel territorio del comune di Arezzo. A chiedere con forza che si possa realizzare questa stazione sono oltre 5.000 cittadini che hanno già firmato una petizione e a breve ci sarà anche un incontro con il presidente della provincia di Arezzo. 5.148 certificate dal sistema change.org. Il comitato proseguirà in questa campagna di sensibilizzazione, di conoscenza e conoscibilità di una istanza che sta incontrando molto consenso presso le associazioni, le fondazioni di tutta la provincia retina, i pendolari, gli studenti, gli universitari, i lavoratori, le categorie economiche ma anche gli ordini professionali e le organizzazioni sociali. Il tema della stazione cosiddetta Media Etruria, un progetto che anche l'ex assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli aveva seguito da vicino, torna ad appassionare l'opinione pubblica nel territorio aretino. L'ipotesi sarebbe quella di collegare la direttissima con la linea lenta tra Olmo e Rigutino, perché qui le due infrastrutture ferroviarie quasi si toccano. Basterebbe un raccordo fra le due linee, circa 30 milioni di euro di investimento e la stazione sarebbe realtà, secondo il Comitato, senza progetti faraonici ma con una stazione che collegherebbe il territorio aretino e non solo con il resto d'Europa. Ci sono interessanti aggiornamenti che verranno divulgati nel corso di un prossimo convegno, al quale saranno invitate anche le province limitrofe, proprio perché è confermativo dell'opportunità in termini di sostenibilità economico e finanziaria di realizzare una struttura di questa portata proprio là dove esiste la garanzia della intermodalità, così si chiama tecnicamente, ferro-ferro e anche ferro-ferro-gomma e quindi in prossimità delle due arterie ferroviarie. Lenta e direttissima ma anche di un sistema viario compatibile, idoneo, affinché possano i bacini di tutte le vallate e di più province confluire in una simile infrastruttura. Il prossimo venerdì è previsto l'incontro tra il Comitato e il Presidente della provincia di Arezzo, Silvia Chiassai. C'è stato confermato questo appuntamento, abbiamo chiesto anche al Sindaco Ghinelli, al Governatore Toscano di consegnare simbolicamente le prime 5.100, ad oggi 48, sottoscrizioni. Siamo grati alle istituzioni nella misura in cui, oltre alla presa in carico di questa forte istanza, si faranno parte attiva, come finora per la verità sta accadendo, pur nelle contingenze politico-istituzionali, nazionali ed internazionali, ma chiederemo con maggior insistenza a tutti gli enti pubblici territoriali di rappresentare presso il Governo regionale e nazionale questa importante richiesta.